Il cerchio, o meglio il trittico, si chiude. Pontedera e Fermana hanno portato quattro punti, che potevano essere anche sei, ma alla fine va bene così. Le due trasserte hanno mostrato una bella lucchese, bellissima nella gara del Mannucci. Insomma, poco alla volta, Pagliuca pare aver trovato la giusta quadratura del cerchio, nonostante le ridondanti assenze che dopo fermo si sono arricchite di quella più pesante. Francesco Fedato è la ruomo più in forma, ma sabato contro la Viterbese non ci sarà, poiché ha quinto cartellino giallo e incappato nella squalifica. Peccato, pronto Nanni in naftalina da qualche partita a rilevarlo in attacco al fianco di Semprini. Già perché ormai il tecnico rosso-nero pare essersi convinto della necessità di utilizzare un trequartista, belloni e due punte. Per il resto dovrebbero giocare i soliti noti, anche perché gli assenti di lungo o breve corso sono diversi. Unico dubbio, Pagliuca è tentato dalla voglia di rilanciare Bensaia in mezzo al campo, affiancandogli due gladiatori come Eculo e Visconti. Tra l'altro Bensaia è il ex di giornata e magari potrebbe trovare gli stimoli giusti per dimostrare tutto il suo valore e il motivo per cui la Lucchese voleva strapparlo alla Viterbese già nel mercato di gennaio. Giallo-blu ultimi in classifica con Fermano e Pistoiese, ma sarà bene non fidarsi visto che martedì hanno regolato 2-0 il quotato Siena. Proviamo a snocciolare l'undici della Lucchese con il 4-3-1-2. Coletta in porta, Papini, Bacchini, Bellici e Corsinelli in difesa, Eclub, Bensaia e Visconti, Cerniera Mediana, Belloni ad agire alle spalle di Semprini e Nanni. Unico dubbio Brandi per Bensaia a centrocampo e in quel caso Eclou farebbe regista. Il pallone racconta negli ultimi anni Lucchese e Viterbese si sono affrontate quattro volte con un bilancio in perfetta parità. L'ultima volta al Porta Elisa risale al 20 marzo 2018 e la sfida finì 1-1. Lucchese in vantaggio al 27esimo del primo tempo, azione corale degli uomini di Lopez. Parker ruba palla a centrocampo e serve in corsa Fanucchi che pesca al centro a Rigoni giunto dalle retrovie. Numero 4, Rossonero non sbaglia e realizza il suo quinto gol stagionale portando meritatamente in vantaggio la Lucchese. Il pareggio degli ospiti però arriva pochi minuti più tardi. Corre il 34esimo e Calderini dal fondo crossa al centro per Baldassin che di testa non perdona battendo Albertoni. Quasi al novantesimo a Rigoni, ancora lui, ha il pallone della possibile vittoria ma il suo tiro termina di poco a lato.